Un vento a trenta gradi sotto zero incontrastato sulle piazze vuote contro i campanini a tratti come raffiche di mitra disintegrava i cumuli di neve e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari seduti sui gradini di una chiesa aspettavamo che finisse messe e uscissero le donne poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky e poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi e poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi l'inverno con la mia generazione le donne curve sul telai vicino alle finestre un giorno sulla prospettiva Nijinsky per caso vi incontrai di Kostavinsky e gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione e gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione e studiavamo chiusi in una stanza la luce fiota di candele e lampade a petrolio e quando si trattava di parlare aspettavamo sempre con piacere e il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro di Brunire e il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro di Brunire e... e... Grazie a tutti